La vita è fatta di tante piccole cose a cui spesso non diamo importanza. Siamo sempre di corsa, senza una meta precisa. Ma abbiamo mai provato a fermarci un momento? E a prendere un respiro? Una moca di caffè? Una partita a carte? Una nuova canzone su Spotify? Guardare una serie tv su Netflix e amarla? Un film e non capirci niente? Giocare al tuo videogioco preferito? Leggere un libro, o un fumetto, o magari un manga. Esultare perché la tua squadra del cuo che ha segnato un gol. O incazzarti giustamente perché ha sbagliato un rigore. Vinci con una scommessa... Ok, scusa, perdere l'ennesima scommessa. Sbagliare un tiro libero. O perché no, segnarlo gridando, Copiii! Brindare con te le bide con gli amici. Fag maxi. Per poi ricominciare a correre. La vita è fatta di tanti momenti. La vita è fatta di tanti momenti. Ma solo pochi valgono la pena di essere vissuti. La vita è fatta di tanti momenti. Ma solo pochi valgono la pena di essere vissuti. Nishoku. Eclipse of Semi. Stop!